Buonasera, buonasera, benvenuti a tutti, benvenuti a Trieste per chi arriva da lontano, benvenuti anche anzi un saluto a chi ci guarda da casa, benvenuti alla sesta edizione di State of the Net, come sapete siamo partiti nel 2008 però poi abbiamo fatto un periodo olimpico di pausa e poi dal 2012 siamo sempre riusciti a portare a Trieste la conferenza, c'è stata un'eccezione l'anno scorso, era l'anno dell'Expo il 2015 e quindi in omaggio a quello che aveva deciso di fare il paese eravamo a Milano in occasione dell'Expo, però volevamo tornare a casa, pensiamo che la dimensione di State of the Net debba essere glocale, è una parola abusata però secondo noi in questo caso funziona davvero e quindi portiamo gli speaker da tutto il mondo, cerchiamo di ampliare sempre di più il pubblico però è una conferenza che nasce qua in Friuli Venezia Giulia e secondo noi ha senso che sia qua. Abbiamo una enorme serie di ringraziamenti da fare ancora prima di partire e quindi per aiutarmi chiedo alla regia Luca di dimostrarci i partner che sono le persone, le aziende, gli enti che assieme ai quali costruiamo questa conferenza e un progetto di cultura digitale è essenziale che le aziende e gli enti ci credano per farci andare avanti, quindi davvero grazie in primis alla regione Friuli Venezia Giulia che è il nostro co-organizzatore, c'è un lavoro davvero di co-organizzazione che viene fatto nei mesi che precedono la conferenza e ovviamente tutti gli altri che danno un contributo fondamentale. Vedrete che il termine glocal che citavo prima non è usato a caso, se guardate i media partner che abbiamo in questa edizione ovviamente non può mancare il giornale della città e quindi ringraziamo il piccolo, il direttore, il vice direttore per il contributo che ci ha dato, ma lavoriamo anche per i prossimi anni come vi dicevo sempre su una visione internazionale e quindi assieme al piccolo abbiamo un partner decisamente importante come Newsweek che quindi ci dà una visibilità soprattutto sul mercato UK, del Regno Unito e che ci serve a portare avanti il nostro lavoro. Paolo, raccontaci il tema dell'anno Come sapete ogni anno troviamo un tema e poi cerchiamo di raccontare delle storie di trovare delle persone interessanti che ci possono aiutare ad approfondire il tema Quest'anno, soprattutto dall'inizio dell'anno scorso, vivo in Inghilterra e quindi ho vissuto la comunicazione e la Brexit abbastanza in prima persona e ciò che colpiva e ciò di cui molti parlano è quest'idea che viviamo in un mondo, in un spazio informativo post-fattuale. I fatti non sono più così importanti come erano una volta nella comunicazione. E la rete gioca un ruolo molto importante in questo ambito perché da un lato la rete è il migliore strumento di fact checking che ci sia mai stato. La rete è uno strumento che se lo si sa usare consente di trovare un sacco di opinioni diverse, ci aiuta a capire la realtà e la complessità, ma dall'altro la rete è anche Facebook, è il posto ideale in cui finire rinchiusi in queste piccole camere degli iechi in cui trovare, sentire e parlare solo con gente che la pensa come noi e quindi rinforzare le nostre idee a prescindere dal fatto che siano o meno basate su fatti. Di questo parleremo soprattutto nel programma di domani o del programma che di fatto incomincia questa sera a State of the Net con un gruppo di speaker sia italiani che stranieri che pensiamo ci aiuterà ad esplorare e a capire meglio questi aspetti della comunicazione. Bene, io invece vorrei dare il benvenuto anche alle persone che ci seguono da fuori Trieste o via internet sulla nostra pagina Facebook, la conferenza viene seguita in diretta per tutta la sua durata, potete se avete piacere segnalarla ai vostri amici così come potete utilizzare l'hashtag ufficiale di State of the Net che è SOTN11, cancelletto S-O-T-N, scusate 16 naturalmente, non 11, 16 l'anno. Sei rimasto dal 2011 che... Che non abbiamo fatto la conferenza per quella. Poi vorrei, ci terrei molto a ringraziare le persone che con noi studiano il tema dell'anno e ci aiutano a costruire la conferenza durante l'anno. Abbiamo un confronto continuo e sono alcune delle persone che più analizzano e approfondiscono la rete in Italia e in Europa. Li cito brevemente. Ioan Sempo, Luca De Biase, Gigi Italia Pietra, Adriana Lucas, Marco Massarotto, Antonella Napolitano, Daniele Chieffi, Maffe De Baggis, Massimo Russo e per sempre, in qualche modo, vicino a noi anche Marco Zamperini. Se volete c'è un wifi disponibile nell'hotel, la rete è Star Hotels. Se siete ospiti dell'hotel utilizzate come da istruzioni numero della camera, se no c'è un codice che è NOTHOTELGUEST come password. Nelle pause potrete servirvi del caffè che Illy ci ha messo a disposizione, siete nostri graditi ospiti. Vi consiglio di iscrivervi alla nostra mailing list, la trovate sullo sito di State of the Net, SOTN.it, così rimanete sempre connessi con le nostre attività durante l'anno. Grazie. 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 Grazie.